ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi video presentazione di un nuovo progetto e di una nuova collaborazione i protagonisti sono gli orecchini che vedete inquadrati qui davanti e la collaborazione è con il sito crea nirabiz crea perline vi avevo anticipato di questa nuova collaborazione nel recente video consigli per gli acquisti che ho pubblicato la settimana scorsa gli acquisti appunto effettuati presso il sito crea nirabiz crea perline vi avevo annunciato di questa collaborazione e del fatto che da lì a breve ci sarebbe stato il lancio del progetto e del relativo kit eccoli dunque qua gli orecchini che abbiamo deciso di chiamare atollo io li ho realizzati ispirandomi alla palette creativa che sito aveva lanciato un paio di mesi fa avevo fatto anche un video in merito e quindi primeggia il colore diciamo della palette stessa ovvero il color corallo che insomma da tempo sappiamo essere fra i protagonisti della stagione estiva e che io adoro letteralmente ho utilizzato per la prima volta le perline cospar puka e devo dire che mi piacciono molto all'interno vedete i rivoli svaroschi e guardate che belle anche queste meravigliose gocce da questo effetto iridescente molto molto bello all'interno del kit troverete tutto il materiale necessario per la realizzazione degli orecchini e ovviamente vi arriverà via mail lo schema in pdf per la realizzazione degli stessi eccoli qua ora ve lo mostro anche ve ne mostro uno più da vicino eccolo qua vi piacciono a noi piacciono tanto ovviamente io sono di parte ma anche quando li ho mostrati a raffaella la titolare del sito ne è rimasta veramente entusiasta quindi speriamo piacciono tanto anche a voi vi lascerò appunto qui sotto nel box informazione il link diretto all'inserzione per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi eccola qua orecchini a tollo io ringrazio di cuore raffaella per questa opportunità per aver creduto in me ringrazio voi per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima ciao